Il team Nannie ad aggiudicarsi il trofeo canottieri Lecco nella 45esima edizione del campionato invernale Interlaghi. Nannie, dell'armatore sassarese Antonio Roggero, è stato vittorioso sugli altri 39 equipaggi e vedeva al timone il milanese Bruno Lodovico, 26 anni. Accompagnato dall'equipaggio composto anche da Martino Colnago e Diego Salsi. Successo assoluto per il team Nannie vittorioso nelle prove cominciate domenica 3 novembre con pioggia battente e vento da nord, il tivano, che hanno reso la vita difficile a tutti i team. Non lontani dalla vittoria anche i team Funcallero dell'armatore Stefano Liglia con al timone Flavio Favini, Enrico Negri e Federico Valenti, oltre che il team dell'armatrice Sonia Ciceri che vedeva al timone Pierluigi Putod. Per quanto riguarda le altre classi è successo per la pulce d'acqua di Alessandro Tritto nei Meteor e la zia di Corrado Lacerra per il trofeo Momo Cereghini.